Mercoledì 22 maggio 2019 presso l'aula A1 del complesso universitario di Monte Sant'Angelo si è tenuto l'incontro Resto al Sud per informare gli studenti sul corretto utilizzo dei fondi per creare impresa a disposizione dei giovani italiani. All'evento promosso dal centro di Ateneo Sinapsi moderato dalla direttrice del centro la professoressa Maura Striano è intervenuto l'ingegnere Bartolo Castellano sui temi di business di startup e di fondi pubblici. Il convegno è stato un importante momento di confronto per i partecipanti che hanno avuto la possibilità di condividere le proprie idee e la propria esperienza di startup. Castellano ha ribadito l'importanza di progetti funzionali ed efficaci capaci di rivoluzionare e di portare benefici concreti all'economia del Sud Italia.